Questo progetto racconta la storia del Policlinico e del Cagranda, è un progetto che abbiamo articolato in uno spazio molto grande che è la cesata esterna del nuovo ospedale e su questa superficie abbiamo raccontato questa storia che si articola dalle metà del 400 fino arrivare ai giorni nostri. E' una storia particolare che è sviluppata attraverso l'acromia e che parte dalla direzionalità di Amarante e di Nero che erano i colori corpore del Policlinico fino ad arrivare ai colori odierni che sono il verde e il grigio. La particolarità di questo progetto è che prende in analisi la quadreria di Policlinico e dalla quadreria stessa li porta in esterna attraverso un processo di fruizione più democratica e naturale che è quella della Urban Art. Con quest'opera che abbiamo voluto realizzare grazie al bellissimo contributo di Ortica Noodles volevamo non solo portare l'arte e la bellezza all'interno dell'ospedale applicandola su un oggetto che è la cesata di cantiere che è considerata comunque brutta e degradata spesso ma anche e soprattutto creare un ponte tra passato e futuro proprio sulla linea di confine tra questi due mondi attraverso i volti delle persone che hanno fatto con la loro filantropia, con il loro impegno sociale e con le loro grandi capacità nella medicina e nella chirurgia di questo ospedale un posto veramente unico al mondo.